Lei è stata tutta l'estate in bichini sui giornali di gossip, no? E come no? I giornali sali, dicano? Si è vista in forma? Al mare sono al meglio delle mie possibilità psicofisiche. Quest'anno ho avuto quest'idea originale di andare in bichini anziché in tuta da sci. Ma sono inturcinata dalla tuta! Sono andata al mare, nello stesso posto dove vado da 30 anni, con la mia famiglia. That's my family! Nello stesso stabilimento balneare, popolare. Per dell'è, terzo mondo. Di aver fatto quello che fanno tanti altri italiani. Sei brava, sei! Cosa le ha dato di più fastidio di tutte queste foto? Che sputtanamento! Io credo che gli italiani abbiano bene altri problemi di cui occuparsi. Secondo te dove lo festeggia il Capodanno Toninio Serezzo? E che la responsabilità di chi ha incarichi di governo sia quello di dare risposta a quei problemi. L'Italia socialista!